Il 2021 per il Cilento si apre all'insegna dell'innovazione. In continuità e coerenza con la propria mission di agenzia sviluppo locale, la sistema Cilento lancia la Call to Action Innovation Team, una sorta di chiamata raccolta di professionalità, esperienze e competenze, finalizzata a costruire un network aperto e collaborativo per ragionare strategicamente su visioni di scenario, ma anche su come impiegare per interventi mirati, in particolar modo nei settori legati alle vocazioni territoriali, le risorse dei fondi europei messi a disposizione dalla nuova programmazione 2020-2027 Recovery Fund e Next Generation EU. La affiancano in questa sperimentazione l'incubatore d'impresa Eco Working Mediterranean Factory e la nuova realtà associativa 2020, che focalizza il proprio impegno alla concretizzazione del contesto locale, degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenzia 2030. Se c'è un'acquisizione che l'esperienza di questi ultimi tempi ci consegna è che non si può rispondere alle nuove sfide con criteri, paradigmi, modi di pensare e di agire vecchi, che sono effetto ma anche causa degli assetti che ci hanno portato all'attuale stato di cose. La ripartenza dovrà essere contraddistinta da un'energia alta e muoversi in una nuova direzione, segnata dalla condivisione, dal contributo, dall'unione, dai nuovi valori e nuove visioni. Innovation Team nasce per facilitare lo scambio di conoscenza, condividere visioni per il futuro e costruire progettualità innovative, dialogando anche con il mondo della ricerca e dell'innovazione. L'innovazione che necessita le nostre aree del Cilento e che con questa operazione si intende abilitare non è tanto e solo tecnologica o digitale ma anche innanzitutto innovazione sociale, che può cominciare proprio da un diverso format di condivisione della conoscenza, immaginato come un network di pratica in cui creare e gestire processi di scambio informale per accelerare il trasferimento di conoscenza senza perdere di significatività. Vogliamo far nascere una nuova community aperta e che coinvolga le competenze ed i saperi presenti con le rispettive dotazioni di innovazione. Dichiara Nello Onorati, presidente della Sistema Cilento, c'è bisogno di un progetto comune di solidarietà sociale, politica e economica tra soggetti, tra soggetti e istituzioni, tra soggetti e ambiente. La nuova sfida oggi è la governance di processi e transizioni di sostenibilità che producano risultati e impatti a triplo risultato, socialmente responsabili, ecologicamente neutri o positivi e finanziariamente accettabili. Ed è un impegno che non può essere lasciato ai singoli, privati o organizzazioni. Servono invece strategie plurali e idee lungimiranti. Non dobbiamo zoppicare sulla gamba dell'individualismo, ma abbiamo il dovere di creare una nuova economia dell'esperienza e della cura, e non solo del consumo. L'innovazione deve contaminare tutti i settori pubblici e privati perché solo attraverso di essa si potranno innescare nuovi e virtuosi processi di sviluppo. Sarà possibile aderire ad Innovation Team compilando il modulo di adesione.